Ok Sta registrando Allora Quello che andiamo a giocare stasera È una battaglia di prova Ovviamente è la nostra primissima partita Quindi speriamo insomma Le regole di beccarle bene O poi se non le becchiamo tutte Voglio dire Chi se ne frega La prima partita per tutte e due E Lui Rally Muove i russi Che ha questa parte del tavolo Le forze attaccanti Buonasera Io dalla parte di qua Invece ho la Wehrmacht I tedeschi Giochiamo ovviamente Nel panorama dell'Early War In operazione Barbarossa In cui praticamente Le forze tedesche Invasero la La Russia di Stalin Ora si fa una partita A mille punti E lui in campo ha schierato Questi due carri Che dovrebbero essere un medio Almeno il T-34 Si E un leggero Da quest'altra parte E vabbè Unità di fanteria Per la maggior parte C'è SMG Rifle Un po' di roba Gli obiettivi che lui deve conquistare Sono prima di tutto Questa Casetta qui La collinetta Poi deve conquistare Questo bunker Ah il bunker qua giù Rally Loro li vedi fuori Perché non li posso mettere dentro Ma sono dentro Ah ok Si li vedi qui Ma sono dentro Quindi sono in copertura Completa Poi mi spiegherai Come si fa Si 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 Devi tirare almeno due Però vabbè Se ci ti ricocari È differente E poi qua giù C'è l'ultimo punto Da conquistare Che sono un'altra unità Mentre qua giù Invece ho il Il comandante Il comandante Del mio schieramento E qui Un Panzer 4 Che in realtà Perché non c'è il modello Non ce l'hanno messo È un Panzer 3 Quindi è più debole Quello che c'ho io Come carro leggero Possiamo partire E sacchettino Qua giù Ti ricordi no? E quante unità c'hai? Tutte Contando anche carri armati Si 1 2 3 4 5 6 Il medico Faceva squadra da solo Quindi 6 Esatto Io c'ho i dadi grigi Te ci dovresti avere Quelli Rossi Che non ci sono Ti prendi Sti qui Verdi Usa quelli dell'Aleate Va bene uguale Quindi 1 2 3 4 5 6 Lei senti con un bel contrasto Così che si vedono bene Sì sì Vabbè Grigio e verde Spero che uno sia da retorico Vai Si inizia la partita Non ci sono tuni Né niente L'obiettivo è quello che devi conquistare Quello che vede Vai Hai messo i dadi vicino Per un motivo lì? È l'obiettivo Ah No no Che fai? Che fai? Cosa? Cosa ho fatto? Un dado solo alla volta Aspetta Minnaggia Ti devi tirare fuori un dado solo alla volta Si muove una truppa a volta Vai Prima Ok Verde è tua Ora prendi questo dado Quello lì che è tirato fuori Te li devi portare Ora decidi che azione dare alla truppa Ti ricordi c'è Corsa Si muove al doppio della velocità Movimento Si muove normale Avanzata Si muove normale Spara però A meno uno O se no c'è Buttati a terra Che si butta a terra E quindi È più difficile colpirli Il rally non ti serve Perché si fa solo quando sei pinnato Ok Se no c'è L'embush Ambush vuol dire che li lasci fermi E aspetti di vedere cosa fa il nemico Allora Puoi muovere chi ti pare Allora Anche cari Eh Si E le prese di misurazione Cioè le misurazioni si possono fare Solo una volta fatto il movimento Giusto O la decisione Cioè se tipo vogliessi attaccare Devo prima vedere Eh Si puoi misurare Poi misurare Cioè si dovrebbe sempre Regole dal torneo no Dicano che te prima devi dichiarare Dopo devi misurare Perché se poi non ci arriva il corpo È come se fosse andato a vuoto Visto che è la prima partita Per tutte e due Misura pure Non ti preoccupa No vabbè ma adesso No no misura Allora No no ma faccio così Allora Io posso sia muovermi che sparare Giusto? Si Devi prendere praticamente Questo dado Ad esempio Se tu lo volessi dare a loro No Devi girarlo Devi girarlo un po' di volte Fino a che non viene l'ordine advance Guarda se lo trovi Ok Però poi dopo posso anche sparare In questo gioco giusto? Si Però meno uno Se muovono sparano peggio Ho capito? Ah ok Allora faccio fire col carro Questo qua Ok mettigli un fire accanto Così ce lo ricordiamo Sarà un po' Forse No? Non c'è un modo per girarlo Sicuramente Sicuramente c'è Ma noi siamo Dobbiamo fare la parte degli scemi No? Allora Facciamo una cosa Dopo quando tocca a te Ho fatto Adesso Adesso noi duplichiamo uno Guarda Esatto Geniale Geniale Allora Volevo sparare con questo qua Questo qua può sparare Però poi dopo No no Meglio di no Dimmi Perché poi dopo ci incasiniamo con Dati Ce n'è troppo in giro Buono Va bene Allora Questo qua può sparare Intanto Se ha due armi Può sparare con entrambi O deve sceglierne una Può sparare con entrambi Se c'è scritto Coaxiale Mitragliatrice C'è scritto Coaxial O no? No Qua c'è scritto Ah si Selection Coaxial Ah no Però vedi c'è scritto Or Coaxial Quindi o spari col cannone Ok Oppure spari con l'MC C'è scritto Se ci fermi sopra la mano Al cararmato Ah Qua c'è scritto Nella mia scheda C'è scritto Selection Seleziona Seleziona Delle regole Coaxial Weapon Eh ma di solito Quando c'hanno Coaxiale Sparano O l'arma O il cannone Non tutte e due Ah ok Quindi Allora Te c'avresti Penetrazione Più 4 Quelle per i carri Per gli edifici E altre cose Però c'hai HE un pollice No? Vedi? C'è scritto HE un pollice Penetrazione 1 Questo cosa vuol dire? Penetrazione non te ne frega nulla Tanta è fanteria No? Però se spari con loro Sì E io purtroppo Beh guarda Faccio una cosa Dammi un secondo Dovrebbe Per Ce la fai a staccare una basetta Da sotto qualcuno O no? Sì basta che clicchi Clicchi col tasto CTRL Le sopra un romino E lo incasino Perfetto Allora ti faccio vedere Te ne creo una Che si allarga Uno Soltanto uno Vediamo un pochino Ok Aspetta la restringo un po' Perché praticamente Questa qui È l'area d'effetto Dell'esplosione Del tuo colpo No? Dovrebbe essere di uno Vediamo un po' Allungala un po' Guarda fai te E con più Com'è? Più Tienici la mano sopra E fai più Più la fa diventare più grande Meno più piccola Però senza clicca Pisa solo il più Tienici la mano sopra E fai più Non va Non va Allora a misura Ti faccio io Guarda come sei grande Vabbè basta Basta Quindi quando tiri questa Questo qui si fa Che il piattellone Dà l'uno Da uno Ad esempio Un colpo HE Te lo devi posizionare Esattamente per colpire Gli omini Ok Se lo metti così Becchi loro due Se lo metti così Becchi solo lui Capito? Se lo becco un po' Più indietro Ne becco tre Se ne becchi un po' Così Esatto Dipende come lo metti Ti qui ne becchi tre Questo funziona per Le HE Le HE I colpi penetrazione Non ci hanno volta Per il medium machine gun Eh no È una mitragliatrice Quindi tiri per i dadi Per vedere quanti Quanti colpi vanno a segno Capito? Dipende Ci va a sparare Con il cannone O con la mitragliatrice Con la mitragliatrice Quanti colpi Quanti dadi tirerei Guarda la scheda Del caro armato Sull'app C'è scritto 36 Ah 4 shot Quindi fino a 4 4 dadi Ok Tiri 4 dadi Ora misura Dal caro armato A loro Sempre in pollice Se esattamente Sì sono 25 Però a quanto sei Dell'MG A lunga O a corta Come che il tipo Ah giusto Sta cosa qua Ah mi ero scherzato E allora Sono a lunga Allora Con 40 Io dilaccio 48 Quindi Cavolo Per 5 pollici Comunque non li vedi Tutti quanti 05 pollici Ah no Guardando dal cannone Vedi loro due Ci metto il puntino Loro due le vedi Scusa Ah sono a 24 3 però Sono giusto Questo e questo Questi due le vedi Sì Devo prendere Dalla 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 base Del carro O dal No è una coassiale È attaccata Praticamente al cannone Quindi Sei Devi misurare Dalla punta Del cannone 23,7 Con il tipo La tua visuale È il cannone Per quello T'ho detto Va sempre indirizzata 23,9 Guarda Ci sono Vai Allora sparo Con il Con Light 30 Gun C'ha 48 1 Aspetta Faccio una cosa Crea un pochino Di dadi Così dopo ce l'abbiamo E colpisce Con 4 Più Com'era Eh Ora ti dico Sì Ho un po' Di dadi Eh la badana Allora No Tutti quanti È Regolare Veterano Com'è L'equipaggio Come l'hai messo Questo è veterano Veterano Vabbè Comunque Basta che non sia inesperto Colpisce al 3 o più Non siamo a lunga città Ti hai detto Sei sicuro No Ok Colpisce al 3 o più L'unica cosa L'unica Loro Essendo in copertura leggera Data anche un po' Dal rialzo della collina Ti danno Meno 1 Però è una copertura leggera Non è una copertura pesante Quindi Ti dovresti tirare Al 4 o più Aspetta Ok vabbè Niente Il colpo Ha mancato Oh cacchio È caduto Niente il colpo Ha mancato Lui ha sparato E non Non ha preso niente Ok Quindi Questo è andato Sì Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Sì Vai Tiro fuori Un altro Lato Da sacchettino Tocca di nome Ancora te Allora Vediamo Chi farà attaccare I carri Te l'ho detto Quando avanzano Nella loro azione di movimento Si possono anche girare Di 90 gradi Ti ricordi Ok E se invece Li fai andare In retromarcia Perché vuoi andare All'indietro Ma vuoi tenere il fronte Vanno alla metà Del movimento Unica cosa Che l'ho fatta apposta Questo è terreno No accidentato Però vedi terreno Di Non è strada Capito Tipo È tipo un moschetto Una cosa del genere Ok Quindi è un terreno Accidentato Ricordati che sul terreno Accidentato I carri armati Come movimento Mi sembra che Non potessero correre Guarda un attimino Allora Rough ground Tracked vehicles Non possono correre Quindi non hanno Nessun malus Solo non gli può far fare La corsa Al doppio del movimento Solo su strada Ok Allora E quindi A livello di movimento Dove vedo Quanto movimento Hanno Ah no Hanno tutti uguali In base a No no Il movimento è tutto lo stesso Il movimento è sempre Dovrebbero avere Dovrebbero avere 6 Vediamo un po' Aspetta Le truppe Normali Sì sì Ce l'ho 6 Ma poi Ah per se no Corrono a 12 Ok Corrono a 12 Sì Allora Allora No niente Vado avanti con La truppa Sovietica Qua Fai Muovi O fai Advance e spari Advance e sparo Cioè Il movimento base È l'advance Giusto? No No movimento base Move Normale Poi ci sarebbe anche L'advance Che praticamente Vanno avanti E sparano Capito? Ah no 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 C'è ragione te C'è ragione Scusa L'advance È l'advance Che avanza e ne sparano Sì esattamente Ok Il move normale L'advance non è quello da 12 Non è il doppio No 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 Quello è il run Quello è il run Sì Ah ok Ok Allora avanzo con questi qua Di Di 6 Quindi Perché mi fa così Ma quali sono? Ah quelli là Questi qua Sì Qui arrivano a 1 E poi Ma è tutto un po' buggato Ma cosa fa avanzare? Che ha armato o le truppe? Le truppe Ah Non so perché ti fa così A me mi riprende bene Ok Adesso vede che era una prospettiva Che non gli piaceva Quindi vado Direttamente qua Muovi il primo E poi tutti gli altri di conseguenza Intanto Muovene uno Tanto basta che stiano vicini Entro uno L'uno dall'altro E ora ti faccio Ti faccio vedere una cosa Per farti capire come Tanto non è una partita Fatta per vincere Capito? No 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 è per farti vedere Come funziona E ti faccio vedere Infatti era una regola Guarda come avanzano Questi russi Tutti agguerriti Maledetti Dio buono Bolshevici Allora Ti ora vorresti tirare a loro Ok Io dico che loro Non avendoli ancora mossi Li butto sdraiati in terra Quindi Ok Cerco dal sacchettino Un mio dado Fino a che non lo trovo Eccolo qui E gli altri poi li rimetto dentro Beccaro È già uscito Guarda è già uscito Con Down Quindi meglio di così E quindi li butto Questo qui accanto Ora Visto che La collina Ti dà meno uno Perché la collina Loro sono in posizione Sopra elevata Rispetto a te Sono in alto Sì E il down Ti do in tutto Meno tre Ok Loro però Sono truppe regolari No Sono veterani Ah no vabbè Basta che non siano Senza esperienza No no Non sono senza esperienza Quindi loro tirano al tre o più Quattro o più per l'artura Cinque sei o più Perché li ho messi in down Li ho messi buttati in terra No Ora tira con tutte le armi Che c'hai elencate Quindi se c'hai cinque rifle Prima tira rifle Se c'hai Guarda un pochino Ah se ho i rifle Sparo con tutte le armi? Tutte L'unità spara con tutte Ah Allora Prima tira un tipo E poi non gli altri Intanto devo capire Che tipo è questo qua Allora Perché i Siberian squad Scusami quali erano Questi qua erano gli antitank Questi sono gli sovietici Ok Allora questi qua sono Non gli ho cambiato nome Aspetta che gli cambio il nome Questi qua sono I Siberian squad Ok Allora loro hanno Sono veterani Hanno delle granate Le granate Se io tirassi una granata Dal di qua a lì Come funzionerebbe Anche se è antitank Dove? No L'antitank Non serve a niente Contra la fanteria Le granate Anticarro Sono fatte per i carri Ok Allora Ho i rifle Praticamente Con loro Tira Quanti c'hai di rifle? Quanti mini c'hai? Cinque In base a quando No però Scusa Il comandante C'ha l'SMG? O c'ha un rifle? No no C'ha il rifle anche lui Ah perché La piedi Vabbè Allora Prendi Cinque dadi E tira lì E colpisci al sei Eh vabbè 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 Questa qui è un sei Quindi sono tre colpi a segno Questi no Ok Facciamo una cosa Stalberi Ma al sei o più Hai detto Quindi perché hai cinque? Ah scusa Scusa Stavo sbagliando Quindi leva Spiglia solamente il sei Ora Per ferire Ferisci Al Sono truppe Normali Quindi regolari Ferisci al 4 No veterane No 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 E i miei I miei sono per regolari Quindi ferisci al 4 Vai Eh vabbè Però Però Comunque Avendogli sparato addosso E avendoli colpiti Mi hai messo Ti ricordi Il pin Mi hai messo Un segno di pin Vai Tutto qui il gioco Andiamo al sacchetto E si guarda cosa esce Ecco le tue Eh Mannaccia Eh Prima poi te li buco Eh Poi Te li buco Tutti insieme Via E te li buco Tutti Fai avanzare Il carro armato Se avanza Il carro armato Questo qua Che truppa sarà Boh Allora Vediamo Il carro Qua Come è messo Ma insomma Vabbè Il carro Di quanto può avanzare Cari Sì Dimmi Di quanto può avanzare il carro E Il suo movimento Dovrebbe Mi sembra Sei Guarda un pochino Sul coso Cioè Anche il carro Di sei Mi sembra Aspetta Ti raccomando un attimino Penetration Sembra che il movimento Sia uguale per tutti Però vediamo un attimino Ma lo vedo io Nel mio Guarda un po' Se c'è scritto Nell'app Non penso Ah Nell'app No Nell'app Non lo vedo Un attimino Che guardo Il coaxiale MMG Cosa vorrebbe dire Io penso Che tutti si muovano Il La mitra elettrice Quella uguale Prima che ti ho detto Spari con quella Ok Ok Io penso Che si muova di sé Vediamo un attimino Morgana Si si muovilo Muovilo di sei Vai Uguale Sei dodici Poi nel caso fosse differente Ci correggeremo poi Metterò una nota Io questi qua Giù li vedo Quali? Si questi qua li vedo io Chi sono questi qua? Quelli in fondo In fondo Ah e Fai il coso Loro? Ah si giù Col carro? Si Si Sono agitate estrema Penso Però si Le dovresti vedere Ok Allora Io avanzo Con Puoi anche avanzare E sparare Col carro Eh si Ma chi spara Non ci arrivo là Dov'è Eh qui Dov'è il terreno Quello accidentato Che dicevi? No Che è tutto Quello che non è strada Quindi non puoi Correre col carro Puoi correre solo Sulla strada Ah ok Vabbè avanzo Col carro Via Avanzo Di sei Penso sia sei Eh poi Se ci siamo sbagliati Lo correggerò Sempre dal punto in avanti Sì Devi Il carro deve sempre essere girato Così Ok Cioè nel senso Lo puoi girare Massimo di 90 gradi Il cannone deve sempre stare Ovviamente nella direzione Dove punta No Io dicevo Il Quando Il Quando muovi Sì Il carro armato Deve andare Il sei Tipo Qua È a sei Sì No Sì Dal dietro Dal dietro Ok Perfetto Ok Mettigli Beh dal di qua Direi che Sparo Lì non ci arrivo a vedere Quindi sparo Quelli laggiù Aspetta Questi cacchio di dadi Vabbè facciamo una cosa Tanto si ricorda noi Mettiamogli lì Sì Ma tanto scusami Mettici questo qua È uguale Vabbè Vabbè Perché ha fatto advance Vabbè Lo stesso Lo stesso Adesso sparo Guarda la gittata Il medium Ha 60 Misura 60 Sì 44 Sono sopra Allora Gittata lunga Quindi C'hai Meno uno Per la gittata Ovviamente Loro sono Copertura leggera Meno uno Sì Quindi L'equipaggio Aspetta È 3 4 5 Quanto c'ha Aspetta Fa vedere DHE Devo vedere Una cosa sola D2 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 Quindi Il piattellone Questo qui Fammi ne fare un altro Prendimi un attimo la misura Prendimi la misura Che lo faccio diventare Di due Dove sei? Sì Dove sei? Vai giù Vai da dei rossi Tira Una misura Qualcosa No Ok Fermo così Guarda un po' È due Purtroppo vicino Un po' di più Ok Questo è uno Questo si è misurato male Vi sa No questo è giusto Forse questo è sbagliato Eh questo è un po' più grande Sì? Allora fermo Aspetta Aspetta Leggermente Leggermente Sì Fermo così È un 0,4 Un più 0,3 Fermo Mi raccomando Ok vai Ah giusto Prima tira per colpire Al 3,4,5 Più Ah no Scusa 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 È cavolata Sono veterani Quindi Essendo veterani Quelli laggiù Ah no Veterani per colpire Niente Quanto è fatto Per ferire 4 Niente Mancati Ok Via Quindi anche lui ha sparato Vai Un altro dado Andiamo avanti Eh vabbè Eh vabbè Eh stai lì E devi aspettare Basta Via Allora muovo questi qua E li faccio avanzare O correre Li faccio correre Quindi si muovono Fino a qua Poi se corrono ovviamente Non possono sparare Sì Vai Ok Ok Un po' di avanti Mettere dietro il coso Mi sembrano Aspetta Un po' Non si Oh Così E questi li metto qua Vabbè Ok Così E Ok Ok Dado Oh finalmente Allora Sempre per farti vedere Il coso Come funziona la La regola Loro Gli ho già dato l'azione Perché ti ricordi Gli ho dato precedentemente Quindi avendogli già affidato Un dado Loro la L'azione l'hanno già fatta E un po' San fa nient'altro Il rally lo posso provare Nel In un altro turno Che tra l'altro Dovrebbe essere qui Ok Allora Do invece al cararmato E li faccio fare Run Quindi il cararmato Lo faccio avanzare Di 12 Faccio avanzare Fino Qui Aspetta Vedi però che gira Il cannone Solo il mello fa Sta cavolata Ah no Aspetta Cosa Allora Il movimento è D6 Della fanteria Tracker Vehicle 9 9 9 9 9 Vabbè vado leggermente Per avanti Vai perché stavolta Vi va un po' Per avanti anche te Col tuo Eh mannaggia Eh mannaggia Adesso mi manco qua Sì sì Vai proprio avanti Se vuoi andare Eh ma ormai ho sparato Vai ok Andiamo avanti Sì Eh aspetta Questa qui Glielo metto accanto Tuo Io Vediamo un pochino Loro non possono fare niente Loro sono Ancora Non ci hanno nessuna Gittata Facciamo un Facciamo un altro Ordine di Corsa Con loro E Muovendosi di 12 Li faccio Sarebbero tipo 6 E poi Faccio arrivare Tipo Qui Vai 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 Cosa Sempre a me Vabbè Questi Faccio Tre Fare avanzare Anche lui Per fare Check Di Cosa Quindi lo faccio Correre Anche a lui Lo faccio Andare Qua dietro Vai No Si sente Fa schifo Vai Mio E faccio Correre Le anti-tank Il 12 Quindi giusto Quindi Uno E' uscito Andato tuo Si Mettili pure Da d'accanto Ah Questo Ok Ah Tirolo fuori Tilda No no E' uguale Tanto è Lascia Come è Basta mettercelo accanto Se non è possibile Poi studierò Come si fa Tuo Mio Che penso sia L'ultimo A questo punto E loro L'unico Che mi servirebbe Eccolo qua Loro invece Dentro il bunker Le metto in ambush Ambush Posso dire Che possono sparare Anche nel tuo turno Quando le pare Ah ok L'ultimo dado Penso sarà qualcosa di tuo E' il dottore Muovo Muovo il medico Se si muove Dentro di loro Qua Lui può sparare No Non si può sparare No Entro un'unità Che ti blocca la vista Nemmeno se sono amiche Neanche Anche se lo metto qua No 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 Non può Che c'ha loro davanti C'hanno un'altra unità davanti Allora faccio così Era Era 4-6 Quindi Stessa cosa io Non posso tirare l'ultimo Ok Bene Adesso riprendiamo tutti i dadi Sì Riprendiamo tutti i dadi Guardate avvicino al coso Ciacchetta Ma prima Aspetto qui Ok Io Questo qui Non glielo mantengo L'unica cosa che mantengo Voglio provare a mantenere L'ambush su di loro Quindi loro glielo lascio Il dado lì Questo lo levo Questo lo levo Questo lo levo E Manca qualcosa Ma Sti dadi qua blu Li hai lasciati come punto Sì Obiettivo Ok Io ho 5 truppe Non messe per ora 4 Non mi sembra dentro Vabbè Tanto ora si vede Ah Uno è qua Sì Quello No no è l'unico Quello lasciacelo È l'ambush Ah Ok Boh Allora Nuovo turno Vai Sì 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 Vai Tu Quindi Sempre per fatti vedere Come funzionano le regole Ora voglio provare a fare un rally su di loro Ok Praticamente il rally fa il check con la disciplina più alta che nel caso è questo qui L'ufficiale che non è ancora morto di loro E l'ufficiale che sarebbe L'NCO Ci dovrebbe avere Disciplina 8 9 Vediamo un po' No 10 Ok C'ha 10 10 10 10 Dammi soltanto un secondo eh Ok sì C'ha 10 Questo qui Quindi devo fare Tirare due dadi da 6 E togliere però Per l'azione rally Non toglie niente Perché non devo dare malus alla morale Malus alla morale Al tiro di morale per riprenderseli dai unicamente Quando provi a fare un'azione che non sia rally Ok Ok Quindi devo tirare due dadi da 6 E con 10 o meno L'ho superata 9 Superata Tolgo Tante solo una Però un D6 più 1 Di pin Quindi ne toglierei 3 Ok E quindi questo è tolto E ora l'unità Non era 3 Non era 3 pin No 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 Un D6 più 1 L'ho visto ora Quindi loro Hanno fatto rally Vabbè Ci scrivo down Ma hanno fatto rally E non possono fare nient'altro È un'azione che non avrei fatto mai eh Capito? T'ho fatto vedere Per farti vedere come funziona Che so scemo Ti sparavo se no Adesso che l'hai fatta vedere Vuoi provare a sparare? No 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 Ho fatto questa quindi Ma tranquillo E allora Provo ad avanzare con questi qua Si può fare anche l'assalto in corpo a corpo Però lascia stare tanto Ci complica la vita nella prima partita Ok Assalta la baionetta Lasciamo stare Ok Sto sperando che lo metto un po' più Sì sì E allora Non ha più voglia di combattere questo Eccolo qua Eccolo qua Vai Allora gli faccio sparare Sì Quindi Sparano pulito adesso Sparano pulito Senza copertura Senza niente E essendo truppe Normali Insomma non schifosi Colpiscono altre o più Quindi Ora devi tirare con tutte le armi che hanno Che al solito loro hanno 5 rifle Sì hanno 5 rifle Ok 5 dadi 5 dadi Altre o più 3 3 ok Di quei 3 Ora ferisce al 4 o più Perché le mie sono truppe regolari Non sono veterani questi Vabbè un 6 2 2 2 colpi a segno 2 morti Però c'è un 6 Ritira il 6 Che se mi riconfermi il 6 Ah è vero Non lo scegli te No Vabbè 2 morti Quindi fra 2 morti Tanto sono tutti uguali Io tolgo Questo E questo E l'unità Si ribecca al pin Un'altra volta Tiro fuori Ciò con il nome E Allora Con questi qua Posso sparare direttamente Senza malus O devo spostarli Per avere il malus Per non avere il malus Puoi spararli No ma che malus Cioè sono mezzo a nulla Non c'hai malus È il gioco più facile del mondo Era come ora Ah Facile Sì 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 Allora niente Sparo Quattro fucili Cosa c'hanno Allora Aspettico Allora loro hanno chiuso Loro sono Gli anti tank Loro hanno Vabbè Hanno tutti i rifle Sì E hanno anche i bazooka Però il bazooka Non so se può usarlo Ma chi ce l'avrebbe Cioè quanti sono in squadra Quattro Levane uno col fucile Perché se uno c'ha il bazooka Ce lo dovresti mettere Eh Non ci sono col bazooka Come ci sono gli amici Non è possibile Eh non ci sono gli amici col bazooka Ma questi poi ce l'hanno Non ho capito se ce l'hanno tutti in bazooka o no 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 Uno nella squadra al bazooka Capito Per quello ti dicevo Se ne potevo prendere uno americano Perché loro ce l'hanno il bazooka Ma scusa la squadra non è da quattro allora È da cinque Perché nel mezzo ce n'hai anche uno col bazooka Prendi un americano vai allo stesso No non credo No 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 Sono sempre quattro Però hanno accessoriato il bazooka È così Ma nella lista Nella lista Quanti fucili ti dice Rifle C'è scritto rifle Quanti te ne dice Tre E allora sono Più il NCO Sì Più quello col bazooka Perché loro ce l'hanno il rifle Tutte e tre E costa solo cinque quello col bazooka? Costa solo Cinque Cinque punti in più Ma Aspetta un attimo Te l'hai equipaggiato C'era nella scelta truppe O era un'arma in più da mettere? No è equipaggiato Quindi vuol dire Equipaggiato Era un'arma in più Ah sì Allora devi levare uno col fucile E mettere uno col bazooka Ok Perché pensavo ci sono delle truppe Che nascano anti tank C'hanno già il bazooka a mezzo Ah ok No 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 Te l'hai messo te Ah ok Ok Vai Quindi Questi qua hanno tre Tre Sì Tre cosi Tre fucile d'assalto D'assalto o rifle? Rifle scusa Rifle E un panzer Ok allora Prima tira Tre rifle Quattro Quattro Due Ok Colpiscolo E ora riferiscono al quattro Ok Quindi tutte e due Quindi due morti Che ovviamente levo Uno e due Rimane solo lui Becca un'altra pinna E poi Sparo Allora Il bazooka C'è scritto HE O non ha valore HE Eh Non ha valore HE E quindi non è fatto più sparare sul coso Cioè puoi sparare col bazooka A uno Se non ha valore di HE Perché sarebbe un anticarro No? Il bazooka Il bazooka anticarro Sarebbe fatto per tirare Solo esclusivamente al carro Non avendo HE Però puoi provare un colpo Se lo prendi L'ammazzi Ma non fai esplosione Capito? Sì 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 Quindi becca sempre al solito Quattro sì Sì E Che poi sta cosa è da rivedere Perché Oh via Perché ci sta Che tu col bazooka Non potessi tirargli Eh proprio Perché non fa esplosione HE Non è da fanteria Capito? Sì però Cioè si pensi in guerra Uno c'è un bazooka Ti spara a botta Eh ma non è bazooka C'erano in guerra eh Gli anticarro E poi c'erano quelli da fanteria Comunque Togliamo E anche questo dado Ok Ok Vai Stiamo avanti Tuo A me Vediamo un pochino Faccio Avanzare il carro Questo qui l'ho messo apposta Sta staccionata Era un ostacolo da carri Che va girato Ok Quindi Faccio avanzare Sempre di Ma vuole fare Aspetta Però aspetta Lui non può passare Attraverso quello No 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 Né io né te Se Ho fermato laggiù Lo vedo Poco è male Provare Allora Mi muovo così Fino a qui E poi mi giro di 90 gradi Ma puoi Ah beh Con lui hai 9 Sì sì A me Quando ho il blocco Te lo vuoi Aspetta un attimino Allora E Blocco il carro Ok Vai E Ok E Dado Qua Vai Allora Allora Avanz Di 9 Con lui Quindi vabbè Il primo obiettivo L'è presa Lo lasci così Te lo chiedo Perché se ti sparo Sul fianco C'ho il bonus È di più uno A penetrare Allora Ok Ok Sì ok Il cannone Oh Oh Ok Sì vabbè Va bene Chiusi il cannone Vabbè E ti sparo Col cannone Al tuo panzer Vai C'hai meno uno Perché è mosso E vediamo la cittata Ok Allora Lui ha Non sono oscurato Ovviamente Perché sono Mezza Nulla Allora Lui ha 60 Sì misura Ci dovresti S a metà Però per scrupolo Dalla punta Del cannone Giusto Dalla punta Del carro 30 Sì proprio Metà Quindi Allora Ha valore di penetrazione Più 5 Prima tiriamo per colpire Ah ok Quindi Non al 3 Ma al 5 E scusa al 4 Niente Quindi spara Ma manca Ok Ok Dado Eh però Io non ho sparato È vero che ho fatto il movimento E basta Affanculo Vai E muovo Credo Ho fatto il giro Sicuramente Qualche regola L'avremo un po' Interpretata male Però Tanta una partita di prova Va bene così Più o meno ci siamo Allora niente Muovo i ragazzi qua E di 12 Giusto Vabbè Aspetta No Potremmo Se Occhio Puoi correre soltanto per strada Che anche Vabbè Era sbagliato prima Ah Anche gli uomini Sono per strada Sì sì Perché nei campi Un po' San corre Oh Non fa vedere Che lo diceva Nelle regole Sembra il movimento Nell'erba No ma loro Mi sa che Perché In base Ai personaggi No Sì No run Infatti dice No non puoi correre Vedi No run Ah Vabbè è uguale Dov'è uguale Dov'è uguale Quando ti muovi nell'erba Massimo di 6 Sulla strada invece Può correre Ah no Però A open ground Sì perché si fa conto Che è terreno Un po' tutto smottato Cioè Te non lo vedere Come il villaggetto Così bello E tutto Dovrebbe essere In Russia C'è la neve Capito Cioè dovrebbe essere Un terreno molto impervio Durante l'avanzata invernale Queste cose qui Ok Purtroppo Una mappa invernale Non ce l'avevo Tocca a me E allora Questi Ci hanno sempre dato di prima Perché erano rimasti lì fermi Sì Questi qui Invece Io ci provo Avrò un bel malus Ma ci provo Questi qui Li faccio avanzare Per me Ho bisogno che misura Tanto Tanto Faccio Mi muovo di pochissimo Questi li faccio avanzare Fino a qui Fino più avanti E sparo Perché C'ho un malus Disumano Ma ora ti faccio vedere Ora Con il Panzerschreck Qui Sparo Al carro Come vedi Ma sei fuori dal range Non posso tirare qui Perché ci avrei Queste rocce davanti Il Panzerschreck Tira Panzerfaust A 12 Sono fuori Eh Aspetta che è anche il mio Uguale Vai Fuori Ok Tocca a te Tocca a te Ti ho dato Avanzo col carro Allora Si possono anche saltare i muretti Sempre contando Non più Ovviamente Quindi lui si può muovere di 9 9 Sì Se si muove su strada Invece di 18 Se lui adesso andasse qua Faresti Prima fin lì E poi dopo Però lui sta iniziando il turno Sta iniziando il turno Nell'erba Quindi non può iniziare una corsa In questo turno Dovresti sprecare un turno Per andare sulla strada Normale E nel turno dopo può correre Faccio così Così Però sarebbe così Guarda Aspetta Aspetta Ti faccio Lasciare un attimo Questo era così Ok Era così Se gira di 90 gradi Ponda così Girando A parte no Scusa no 90 gradi E rimesso così Sì no 45 Però deve rimanere così Non può poi rigirarsi di cosa Capito Ah vabbè Ok Ah quindi soltanto Un movimento 90 gradi Sì sì Un movimento solo Non direi 90 Sennò uno lo girerebbe 300 mila volte Ok quindi Allora Cioè il movimento Una volta che ha fatto I 90 gradi Deve finire Cioè un po' più Immuove Se non è che ogni volta Poi girar Ok Allora Lo metto qua Così Eh vaffan Sono andato Adesso cadrà All'infinito Allora Mettiamolo così E la torretta La giriamo Sì sono un po' noiosi Guarda dove cade l'ombra Ti conviene Sempre vedere Eh sì però Non è proprio Ok E Tocca usare tre mani Senti Fai conto Che te l'abbia girato Il cannone E ti sparo All'angolino là Ok Ah no Devo girarlo Allora Questo qui Saldi qua Tiri agitata lunga Ok Penso di sì Aspetta che ci guardo Cacchio L'ho tirato Ma porca A quanto tiri Eh no L'ho tirato via Aspetta un attimo Cos'è questo Il T26B Ho sbagliato T26B Questo qua Ok Ok Era veterano Era veterano Ok E questo qua Tira A 48 Sì Sei agitata lunga 48 Sì Quindi Meno 1 Per la gittata lunga Visto che mi vedi poco E sono in copertura completa Dietro un edificio Ha in tutto Meno 3 Quindi colpisci solo al 6 Sì No Ok Quindi va di 6 Vabbè Va fino a qua Ok Ok Il primo dado È il mio E Che è quello del comandante Che è qui dietro E il comandante Non lo posso mettere Attaccato a un'altra unità Quindi diciamo che Non so proprio Non fammelo morire Perché se no Vanno tutte quante In cosa Lo tengo Lo mando lì E lo metto Facciamo una cosa Il comandante Si muove di Per ora Si muove fin qui Così Ok E per ora Si è mosso qui Ok Ora Prendi i tuoi dadi Si rimettano nel sacchetto A parte quelli Che vuoi al solito Tenere Fermi 2 3 E dov'è il mio quarto Ok Quindi se ho perso uno Quanti truppi ho? 1 2 3 4 Perché c'ho 3 dadi Ah uno ce l'hanno loro E' vero Si Loro lo tengan fermo Vai Shakeriamo Allora ce ne manca uno Vai shaker a te Ok vai E' vero E ti pari Ali Allora Allora Credo Che Palla avanzare Dai Vieni No no Questa è la posizione Più o meno giusta Però Anzi Potrei Spostarmi Leggermente Prima di avanzare E faccio Questo movimento Cioè io posso fare Tipo così Mi sposto 45 45 Primo movimento Avanzi E poi mi sposto Degli altri 45 Sì E hai finito Ok Ok Qua Rimane lui Bello bello E E sparo A lui A chi? E' sempre al carro Ah perché E' evoluta la copertura Ok Leggera Allora Tira Il coso Un dado Sempre Se sei a metà Se sei a metà Gittata Come prima Devi tirare Altre o più L'equipaggio normale Ok Ora Ora si va con la penetrazione Quanto c'ha di valore Di penetrazione? 5 5 Questo carro Visto che è un leggero Per passarlo No Dovrebbe essere 9 Aspetta un attimino Controllo No 8 più 8 più Te tiri Più 5 Quindi un 5 No penetrazione Basta un 3 Allora Aspetta Hai fatto 6 Ora ti spiego una cosa I carri possono subire Due tipi di danno Leggero E pesante Il danno invece Il danno Medio Normale Cioè Leggero Normale E pesante Lo possono subire Solo I mezzi blindati Tipo Camionette E cose del genere I mezzi blindati Come carri armati Pesanti E cose del genere Possono subire Solo leggeri E pesanti Non c'hanno La via di mezzo Capito? Come funziona? Se ti Quanto devi fare Per colpire? 3 o più Per il tuo valore Di penetrazione Se ti fai il minimo Indispensabile Sindacale Per colpirmi Ma hai fatto un danno lieve Se fai almeno 3 in più Del danno Che mi dovresti fare Minimo per colpirmi Ma hai fatto un danno grave Quindi l'hai fatto Perché hai fatto 3 in più Di quello che devi fare 6 Io ho valore Armatura 8 Ti hai fatto 6 più 5 11 Quindi 11 Meno 8 Fa 3 E quindi come ti dicevo Hai superato di 3 Quindi mi fai un danno critico Ora mi sembra Che ci sia anche la tabella Qui Fa vedere se non apro il manuale Ah Eccolo qua Ma hai fatto un danno critico Ora devi tirare Un di 6 Ok Per vedere sulla tabella Cosa succede Ma ha visto che mi ha fatto un critico Non ne tiri solo uno Ne tiri due Quindi tira Il primo dado No una alla volta Una alla volta E dimmi il risultato Uno Uno Con uno O meno Equipaggio stunnato Mettigli un pin marker Per favore Accanto al mio caro armato Si Se Si 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 Ok Le messo questo E ora il mio caro armato Io devo pescare un attimino un dado da qui Poi si rimesclano eh Perché me ne serve uno mio Erano tutti i tuoi Ora il mio caro armato È in down Perché mi ha fatto Mi ha fatto l'equipaggio scosso Ora aspetta eh Me lo voglio godere Vai Tirare un altro Quattro 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 Con il secondo tiro E Distrutto Distrutto Bella E diventa un terreno impassabile Quindi ci dovrebbe essere un simbolino del distrutto da qualche parte Aspetta Ah questo qui C'era qui La cancellati Quale Questi qua Ah Abbandonato Vedi vabbè Facciamo così Veicolo Abbandonato Distrutto Quindi il caro armato È stato distrutto E quindi il suo dado Se ne va Vai a quel paese Relle Ti riverti eh Grazie al cavolo Con un carro medio Tiri su un carro leggero Che volevi Ehm Vai affanciuccio Ehm Eccolo qua L'altro dodino Allora Lui si può dire Che sia sulla Sul Terreno Giusto? Sì Sì Ora sì Quindi Ora può correre Ti ho ancora sparato Anche un corpo Io addosso Ok avanzo con questo Allora lui avanza di 9 No? Sì Fale fa tutto No avanza di 9 E quanto avanza In lunga Aspetta In lunga avanza Di 20 18 Se corre 18 Ma me l'ha preso un piano Allora Per tutto Giusto Sto Sto Cosa qua Che sono tutti dentro Come si fa? Ci spari Con il caro armato Ah e basta Ok Sì Quindi Io avanzo Di Hanno un valore Di penetrazione Anche Anche i bunker E cose del genere Come se fossero Tipo dei carri Eh L'edificio Hanno un valore 9 E poi Avanzo Dei restanti 9 Ok Quindi Arrivo qua Gira sempre Fui il coso Il cannone Ma porca Ok Metti lì il dado 2 Ok Mi faremo Avanca Gambeona Si muovono Ponto 1 in più Eh Di movimento Quindi sarebbero Fino a qui Al massimo 5 E Trovo il tiro Anche se mi son mosso Sai che non ci arrivi Sai Eh ci riprovo Poi a faus Mi sono spostato apposta Perché sapevo che se li stia mangiato Mannagio No Il gioco è schifoso Un gioco Basta Perdo la collaborazione Adesso ti sparo un colpo in bocca Dopo Vedi E vedi Mi arrendo Vai Vedi Vedi Vai Tocca a te E vediamo Sì Allora Io direi che Potrei avanzare con loro Allora Questi qua però Quanti Dov'è Allora Siberian Siberian Aschi 24 Quindi posso avanzare Qua così Anzer Faust Allora Fermo Interrompo Però aspetta Interrompo Interrompi se ci arrivi Ci arrivi No no Interrompo Interrompo Vediamo Ok Quindi gli va via Perché l'ho dichiarato Allora i fucili d'assalto Di sicuro non ci arrivano Però Potrei provare Ciò i rifle No gli assault rifle Invece tirano a 24 Però male Allora 24 Vedi Sì Ci arrivano Siamo in lunga Eh ma ora ti dico tutti Malus Allora Gli levo l'ambush Sì Via Levato Ora Tiro con 5 rifle Con 5 fucili E due E due cosi E due mitra e tre mitra Si fanno dopo Prima i fucili Quindi Tiro a Lunga cittata Quindi meno 1 Quindi da 3 a 4 E ti sei Sulla collina Quindi 5 Colpisce 1 Vabbè Meno male Almeno il pin Te l'ho dato 4 più Sono veterani O normali Veterani Veterani questi? Sì Quindi li ferisco al 5 I veterani sempre al 5 Si feriscono 4 Niente Però aspetta Ora c'ho da tirare Gli assault rifle Che sparano 2 colpi a testa Ma ci arrivano lontani? Sì sì Sempre a 24 Sparano anche fucili di assalto Porca E Ce l'hanno in 2 E tira 2 dadi ciascuno Quindi Altro 5 o più Altro 5 Sì Fucili di assalto Sì Quindi 3 colpi a segno Sì E ti ferisco sempre al 5 o più Perché sei un veterano Ok Una Vediamo se lo riconfermo No Scegli te chi muore Tra tutti quelli Non far morire ovviamente Il 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 Ti sei beccato Un pin Perfetto Ora loro Fagli continuare L'azione che stavano facendo Quindi loro sparano Con meno 1 adesso Ora loro Che si sono mossi Subito il fuoco E tutto quanto Sì Sparano con Con meno 1 subito Oppure potrei togliergli il pin No Turno dopo Perché in questa azione Le hai fatti muovere Non le hai fatto fare Ok Allora Sparano Ah beh però Io potevo buttarmi a terra O no No Perché avevi detto Che facevi movimento Ti butti a terra Solo Se ho l'iniziativa io E te non hai ancora mosso Capito Li puoi far fare Un'azione sola Allora Allora E Niente Sparo Loro hanno Rifle Che mi sparano a 24 Il loro dado Dov'è De che E Non lo so Tra C'era il loro dado Va a farlo verde Eh no Aspetta Apro la gatta Così 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 Il problema è che dopo bisogna ricordarci Poi Ah l'hai trovato Ok Se no ne metti uno in più Boh l'ho messo uno in più io Dopo se me la si vede Eh ti prendo con tre Eh Quali spari? Ah questi qua Questi qua giù No Sei in alto Non conta la copertura Solo la gittata Con quanti hai colpito? Eh Con Quelli Con tre Ora tira per ferire I miei sono veterani Quindi al 5 o più Anche i miei Riconferma Mi il 6 Vabbè Comunque Uno è morto E muore Tanto c'è C'è poca scelta Perché loro Ah no Qui c'è quello col fucile Guarda Il fucile via Vai Ok E il fin Tocca a te Tocca a me mi sa Tutti sti dati grigi qui Un po' dopo si ricontano Un attimino Tirando Ah no Ah toccava a me Scusa L'avevi già tirato fuori te Ah ma credo S'hai rimasto soltanto uno Perché loro Hanno fatto l'ambush Ah sì Tocca a lui Tocca a lui Che fa il Sì no Questo qui levalo Sennò poi Mi sbaglio io Lui Lo metto Guarda Te lo dico Lo metto qui Accanto alla casetta Però è dentro Va bene Ah possono entrare nelle case Eh certo Vai Lui fa conto che è dentro la casa Sei mosso Ed è dentro la casa Ok Vai Questo Ah era questo il dado Loro non si sono ancora mossi Però questo Loro Eh Infatti Allora lo cancello vai Quindi questo Ok tutta me E sposto Loro Sì sì ma poi Entra anche te Dentro le case Quando ti pare Ok Avanti Sì tanto Di tuoi Ok Questi qua quindi possono entrare in casa Poi cosa fanno Sparano dalla casa Sparano da dentro la casa Sì E si beccano la copertura Quella pesante Mettili Vabbè dai Facciamo Aspetta Aspetta Mettili No Accadono Ah facciamo così Metticeli tutti intorno Lontani Uno dall'altro Così capiamo che sono in casa Tipo uno qui Uno qui Lontani Lontani Uno per lato Tanto Sono in casa Ok Vai E con loro sparo 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 Loro cos'hanno Fai vedere Loro sono i Gli infantili support Su chi sparano Allora Loro hanno i rifle sempre Quindi sparo sempre a sinistra Se ci arrivo Sì Sì si è a lunga cittata E contro i dadi Quindi ti prendo al Sei Quattro No C'è solo la cittata Tutti Ora tira per ferire al 5 Perché siamo veterani noi Riconferma al 6 Prova Allora Un colpa a segno Quindi Intanto un pin E poi Devo far morire un altro E muore lui Aspetta No Lui c'ha il fucile a salto Muore lui Vai Poi ti sparo anche col panzer Il Il lancio Dai Lanz Missili E questa cosa c'ho da rivedere Secondo me Non ci può attirare Però Ormai si fa Mancato Mancato Ok Ok è l'ultimo Cos'è l'ultimo? Un smc? No spera L'ultimo è Questo qua Il sovietico Uh Lui si muove Di 6 Ma non è andato là Era qui dietro Deve essere a 1 da loro No? Sì Entra 1 Allora Sono dentro la casa Quindi lui può stare qua Sì Allora Vai Rimettiamo Vedo se posso sparare con lui Se c'ha l'arma Sì Lui ha una pistola in realtà Vediamo dove spara Ma non ci arriverà mai 6 Ma voilà Vai Allora Rimettiamo i dadi Ah ma aspetta Il medico Cazzo Cioè In definitiva cosa fa? Eh boh Ci dovrebbe essere scritto sul coso Ce l'è scritto sull'abilità? Niente? No 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 Dovrebbe potere con un tiro Prevenire una ferita Invece di fatti morire un omino Comunque vabbè Dovrebbe essere qualcosa del genere Poi me lo leggo La prossima volta Me lo guardo Non è che cura Più che altro quando L'unità Entro le sue vicinanze Subisce un colpo Deve tirare un dado E mi sembra che col L'uno Due Qualcosa del genere Non subisce la ferita Per ora mettilo Che è come una truppa normale Poi si va Dalla prossima volta Tanto Non mi sembra Tu non abbia tanto bisogno Eh Metti No era Era per Ok Eh non me lo ricordo Andrebbe Andrebbe di vista Metti pure i dadi nel sacchetto Forse c'era scritto qua giù Aspetta Andiamo a vedere Medic Panatici Hyper Hyper Ehm no Guarderò Poi Ok Questo E questo Pam Shaker 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 Uh uh Sì a tavolo Comunque Questo gioco Secondo me diventerebbe Ancora più Facile Sì 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 ma da morire Allora Il carro Il carro Il carro Il carro Se si muove indietro Occhio Si possono muovere solo avanti Se lo fai muovere indietro Vale sempre la regola Che si gira di 90 gradi Ma si muove della metà Ok ma non può andare in retromarcia Quindi darebbe il culo poi Tra virgolette No Potrei Lo puoi anche fare andare in retromarcia Però il tuo carro ora Ti faccio vedere Si può Si può muovere solo Di qua Di qua O di qua Ok Se lo vuoi far muovere di qua Indietro O di qua O di qua Conta come se facesse una retromarcia Quindi si muove della metà Ok Ok O se no O se no Se non vuoi perdere il fronte Lo puoi prima girare di 90 gradi E poi lo muovi di tutto il movimento Però poi mi dai il culo Cioè io faccio così 45 Tiro questo qua davanti No no 90 scusa 90 No 45 Esti sono 90 No Aspetta Era così Come fa a essere 40 Ah 45 Vai Poi va indietro di 3 Giusto E poi va indietro E poi non cambia No di metà del movimento Può andare indietro fino a 9 Ah 9 Cacchio Allora fammi pensare Dai di 4 E mezzo Quindi allora Aspetta Allora lo rigiro di nuovo Un po' così Quindi No però Eh Così vabbè sarei tipo 65 Ah beh Non sta a fastione Eh Eh No Prima giralo E poi lo muovi E lo giro indietro di 4 e mezzo Aspetta Sì di così dai E ti sparo col cannone Al panzer lì E Dalla punta Arriva là 17 Quindi arriva di sì Allora Facciamo il piattellone Quello grosso Tanto preparo Tira Prima devi colpire Ovviamente Potrei sparare Anche col medium Machine gun Eh Come ti sparo Con quello Sparo con quello lì Sempre a bordo Tiro Tiro con 4 dadi Corta o lunga Eh Corta Corta Sono C'hanno il copertore Della roccia Quindi Meno 1 Al 4 4 Quindi 3 Ok Eh 3 E ora Al 5 Perché sono veterani Madonna 1 Ok Guarda un po' Se lo confermi Quello lì No No Quindi ne muore un altro E Vediamo un po' Chi c'è col fucile Questo Ok Vai E Un altro pin Tocca a me Io potrei Potrei Fargli fare Un'azione Però Poi Devo fare Ora ti faccio vedere Faccio un'altra cavolata No Io ora non faccio un rally Io provo a dargli Ma no ma Fala Fala bene però Così almeno Vediamo come fare Ah no Ti voglio far vedere Come era dato un ordine A un'unità sotto stress Capito Per farti vedere Un pochino Tanto funge anche Da un pochino Di tutorial Io se ora gli do Un rally Faccio il tiro Se riesco Gli levo tutti quanti I pin Come ti ho fatto vedere Prima Ma io sono matto Gli voglio dare L'ordine di Muoversi Per provare a prendere Quel dannato carro No Sì Bossa stupida Però per farti vedere Quindi gli dico Muovetevi Ora devo superare Un tiro di morale Con meno 3 Il morale Della truppa è 10 Almeno ricontrollo Veterani Sì 10 Quindi devo tirare 2 di 6 E fare 7 o meno Perché è meno 3 Quindi 10 Meno 3 Dei pin 7 Devo fare 7 o meno Aspetta aspetta Lo ritiro un vale Ok ho fatto 6 Quindi ce l'ho fatta Quando passi Un ordine Automaticamente Levi Un segnalino Pin Però quei dati Te li tieni E Avanzo Avanzo di Eh si è andata bene Avanzo di 6 Passando qui nel mezzo Ci metto 1 E poi tutti quei lati Di conseguenza E mi sa che Al solito La distanza non c'è E tirare sul carro Oddio invece c'è No 12 No no c'è 12 E allora vabbè Sto col pochino Sparo su di loro Quindi Sparando su Di loro Quaggiù Prima Sono veterani Prima sparo con I rifle Che sono due Quindi tiro due dadi Due dadi Visto che sei in alto Io sono agittata Corta Dovrei essere Si con tutte le armi Quindi tirerei Altre o più Quattro o più Perché sei sulla collina No aspetta No aspetta E dei due pin Quattro più giù Sei sei grande E' verboia Grandissimo Lo ricordavo Boia E niente Ora con le armi D'assalto Invece Quelle d'assalto Tirano due dadi Ciascuno Ora sta camionetta Finisce In cosso Vo' la tiro Ah si Tiriamola via Vabbè Uno Al sei Quindi ha colpito Vediamo se lo riconfermo Dai una volta No Niente Quindi muore uno Ma è uguale Tanto si E dagli un altro marker Pin marker Vai Andiamo avanti Ok Allora Eh non me lo dovevi distrugge il panzer Maledetto Che fortuna Abbiamo questo Io qua potrei fare Così Allora Questo qua Questo qua Avrebbe movimento 18 Giusto 9 18 Campo aperto Sì C'è in strada Sì però posso far Tipo fino a qua 6 E poi fargli fare Il 6 di movimento Che potrebbe fare Lo giri Prima di 45 Allora Praticamente il suo movimento È questo Fa così Sì Poi lo giri Di 45 Ok Sì Così Però così Può fare No Aspetta No Di più Così Così era tipo Neanche 45 Però dai Così E poi mi rimuovo Dei Due le squadre Ce l'hanno E Gira la torretta Tanto Ti si è mosso Stavo pensando se girarmi Mi giro con il muso Perché avevo ancora Possibilità Così E lascio Praticamente Il muso Dalla parte Della L'errore Ok Niente Qua devo metterlo più avanti E ti sparo Da lui A loro Come cazzo Gira Sti torrette Aspetta un attimino Sono da fan Gatticidio Eccomi Ok Allora E ti sparo Da lui A loro Con Il Medium machine gunner Sempre A 36 Ci sono 36 816 Quindi sono anche La buona gittata E che sfiga Uno solo Uno solo E 5 più E sempre Vabbè Un 6 Un 6 Ok Quindi Ritirano Niente E quindi Si beccano Un altro pin Intanto Perché Quanto dà di pin Uno normale Guarda un po' Sulla caratteristica Sulla scheda dell'arma Pin Cosa dice Perché ci sono alcune armi Nanno più di un pin Non vedo pin Un ananne da 1 Ananne da 1 Non è normale Perché a volte C'hanno pin Un di 6 Vabbè Vabbè Ah No 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 Ma è morto Questo qui Ok E l'altro Tocco di nome E Sparo Allora Aspetta Sparo Si posso sparare Con loro Dentro la casa Sparo sempre A questi qua Allora Aspetta 10 Loro hanno Lì dentro Quelli sono I soviet Cazzo Ah Quelli rifle Normali Praticamente Sono i No I veteranos Squad Ah Negli SM No Scusa Ah Sono gli anti-tank Questi qua Ok Anti-tank Hanno I rifle Normali E il panzer Quindi Sparo Prima con i rifle Sono 3 2 2 E Un 2 Vabbè Col 4 No Il 4 No Perché Scusa Sono veterani Quindi Al 5 Si feriscono Niente Si spara Un col Non le ha colpiti Non le ha colpiti Quello che conta E non ti ho preso neanche col panzer Quindi Un altro P Quindi Sì Ve l'ho già messo 4 Ah Ha giusto Una squadra Sì Ok Tuo Mio Questo qui E Proviamo A Io ci provo Mi sa Mi sa Che Sbaglierò Però Ci provo Loro Aprono il fuoco Sicuramente Non ci arriveranno Su questi qua giù Però ci provo almeno Tanto Tirano a 24 E invece E si Arrivano Allora Gittata lunga Più collina Quindi Meno 2 al tiro Da 3 o più Vanno al 5 3 4 5 Allora Sparano Ci hanno Ci hanno Anche loro Quattro Rifle Ma loro Possono Scusami Se Soltanto Uno li vede Sperano tutti Sì sì ma Sono dentro il bunker Ti fa conto che il bunker C'ha finestre a tutte le parti Però allora scusami Tu dovresti calcolare Dal bunker Non dal Eh so Il bunker è qui Cioè Cioè C'è C'è arrivano 23,9 A pelo Proprio A pelo pelo Allora Quattro dadi Al Detto quattro dadi Sì al 5 Quindi 1 e 2 E Sono veterani Questi qua Questi tre Quindi loro Intanto mettergli un pin Che l'ho colpito E Al 5 Niente Poi Fucili d'assalto Mi servono in tutto Quattro dadi Il capitano dell'unità C'ha Il capitano E l'NCO Ha un rifle Quindi c'ho da sparare Ancora un altro colpo Dopo Quindi Al Quattro No Al 5 Si era detto Colpivano Niente L'NCO Al 5 Niente Quindi Nessuna ferita Però si sono presi Un altro pin Vai Allora Andiamo avanti E E Io queste qua Li tolgo Il bagaglio Ok Li fa fare un tiro di rally Senza nessuna Nessuna modifica Con la disciplina dell'NCO Quanto c'ha? 10 Vediamo Questi qua sono Superi Eh Veterani Ci hanno 10 Te lo dico io Ah si 10 Allora Due dati Devi fare 10 o meno Ok Le ne togli Un D6 Più uno Ah Vai Tutti E non posso Non fa nient'altro Ok 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 L'ultimo Che è Capitano Laggiù E quasi 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 Visto che anche Il capitano Ci avrebbe Un rifle Mi sembra Assault rifle Quindi Loro Te l'ho detta Al solito Guarda Ne sposto uno Tanto contano Tutti quanti Dentro il bunker Lui Lo muovo Qui Lo muovo qui E Non è dentro il bunker È soltanto dietro il muretto Vediamo se riesco a fare Un tiro Non penso Però ormai ci provo Questi qua No Ok 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 Allora Prendo Questi qua Li faccio entrare Dentro la casa Ok Allora Così No no Fermo così Quando li vuoi mettere Dentro la casa Mettili tutti spaiati Così Così capiamo Che sto dentro Ok Ok E che è andato Ah Lascio Ma perché vuole così Eh Ok E Questi avevano 6 Quindi sono a posto L'ultima cosa Ed è Il medico Il medico Ha La pistolina Sì Il medico praticamente inutile Poi mi leggo le regole meglio Sì Allora A sto punto Lo muovo di 6 Sai cosa Lo faccio Lo mando più avanti In cui Ah no Non può caricare Non può andare a correre Giusto Avanzare Poteva no Ma il terreno sotto No non può Non può Su questo tipo di terreno Lui dovrebbe stare qua Teoricamente In questo punto qua No non ci può stare No non ci può stare Non può correre sul terreno accidentato No lui dovrebbe essere tipo qua Capito Un po' più avanti Perché arrivava col movimento Praticamente sotto qua Arriva Come te lo hai Buster Vabbè Dal di qua E te lo becco in pieno Volevo beccarti sto stronzetto qua Vai Quindi E niente Lui tira C'ha la pistolina Lui Facciamo tirare anche un po' Lui Se no si mette a piangere E allora Medico C'ha 6 E tira con 1 Assalto Quindi due tiri Assalto Assalto Scusa C'ha la pistola Fusce d'assalto C'ha C'ha la pistola Però special Assalto No 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 Niente Sì sì No quello vuol dire Assalto era una regola dell'arma Dell'arma Però la pistola Assalto Ah ok Non c'ha malus se muove Nient'altro Però poi spara con la pistola Ah Quindi spara un colpo Sì senza malus Ok Poi tira per Per ferire Niente Niente Pin in più Pin in più Eh a faccia Adesso non sparano più Ci sarà una regola Che dopo un po' No Se la loro Il loro morale Cioè i pin che hanno addosso Arriva al loro stesso valore di morale Si arrendano Ah ok Vabbò Allora Prendi anche questi Alla fine le mosse che hai fatto Ti sono andate anche bene Comunque Insomma No ma non avrei Se non fosse stato Per farti vedere come funziona Una vera e propria partita Ma mai giocavo così Ma non esiste L'unica cosa che mi sono fregato È il carro Quello l'ammetto Ma le truppe Tutto col cavolo Che le avrei lasciate così Allora Pescheriamo Vai Pescare Pescare Mio Allora Visto che è mio E io sono matto Per me Loro provano Avanzano Ci provano Oh signore Il tiro con meno 5 Ah no Però aspetta 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 No Ci hanno anche meno 5 A colpire dopo No 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 Faccio il rally Oh per forza Non puoi far niente Faccio un tiro di disciplina A 10 Ok Fatto Ne tolgo un D6 Più 1 Tanto però Il problema è che poi Non possono fannentare Vai Altro dado Mio Loro Ancora una volta Tutta questa unità qui O come ci arrivava Prima ci arriva ora Risparano su di loro Ok Quindi si tira sempre A massimo della cittata E a Arrivava e verso un pin Perché non ce l'ho Sì Sì è vero Massimo della cittata Quindi meno 1 E più 1 per l'artura Quindi invece che al 3 o più Al 5 o più Ah Prima aspetta Il capo Si è detto L'NC Occia Guarda un attimino Scusa Comunque secondo me Non ci arrivi L'NCO Ci sono arrivato prima O ci arrivo ora No Stavo contando dal di qua Ma secondo me Ogni arrivo 625 Come fai adesso Ci sono arrivato prima Relly Si è misurato insieme Ma tu prendi Dalla punta del bunker Del bunker 23 e 4 Cioè 22 e 6 Scusa Fino alla punta del primo Non devi misurare Quello più lontano Devi misurare Quello più vicino Della squadra 22 e 5 Dai Queste misure qua Sono un po' tarocche In sto mappa Non so perché Perché è un gioco Anzi Magari è un po' inoscazza Allora 5 dadi Per i 5 fucili Al 5 o più Quindi 2 E sono veterani Al 5 o più Ancora Ok 1 morto Vediamo se lo confermo Che mi farebbe comodo No Quindi 1 morto E ti bicchi un pin E basta No Ora c'ho Il fucili d'assalto E guarda C'ho anche io il bazooka Ma col bazooka Non ti tiro Eh ho visto infatti Ma secondo me Perché non ti sei dimenticato No 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 Perché Giuro Perché non sono convinto Che si possa tirare Sulle truppe Con le api Non avrebbe senso Però Vabbè adesso Però stiamo facendo Dai Allora E al 5 Quindi 1 E al 5 Un'altra volta Niente Quindi quello lì E ti sei preso il pin Basta Ok Ti sparo di nuovo con lui Allora Sempre dentro 4 dadi Sì 3 o più 5 o più 3 o più 4 E 3 Sì Scusa Ok 1 Ritiro Per il po' E ora mi tocca Iniziarle Va Quelli Con Cavoli Ok tolto Ok Di nuovo Porto Ehm C'è poca scelta E poi ti sparo anche col bazooka Perché a me non me ne importa nulla Io sono anti 3 e poi fa 5 6 e poi Ritiralo Conferma Oh Adesso che togli Adesso che togli Toglilo 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 Il bazooka Toglilo No Toglilo L'ufficiale Ma porca Fussola Ora visto che lui è rimasto da solo No Ed è morto anche l'ufficiale Devo fare per forza un check Per vedere se si arrende Se scappa Una cosa Un'altra Questa unità Essendoci rimasta Un bersaglio solo Diventa Unità piccola Ti dà meno 1 Se hai colpito Perché da solo E' più difficile prenderlo Ah ok Vai E vabbè Devi fare un tiro Dopo dopo Quando i tiri si fanno sempre nel turno Quando è il mi turno Tuo Il mio Sì che ho usato Loro Loro Ah è vero Toccherebbe qui all'ufficiale E Vista l'ora che si è fatta L'ufficiale ordina la resa L'ufficiale ordina la resa Arza bandiera bianca Si presenta al toscheramento E dice Heinz No facciamo così Facciamo così Facciamo così E facciamo Dov'era quel bagaglietto Così Ma non posso farlo Perché Cosa? Il Di lanciarlo via E dammi i poteri Ma ce l'hai poteri? E non me lo puoi lanciare E prendilo e tiralo O trascini e lo tiri Non funziona All'è Prossima Prossima battaglia Che si fa Io te lo giuro Per quello che mi ha fatto Ma ti ti ci metto il tiger Ti ci metto Oh sì Facciamo adesso il tiger Questo c'ha Armatura 10 Che Praticamente È È il massimo Il tuo c'ha va a 9 Se non erro 9 Te lo dico Vabbè il mio è medio però Il mio è medio però Sì Questo qui è pesante C'ha 10 Il tiger Aspetta Penetrazione Un di 6 più 2 Aspetta no Devo vedere un attimino Penetrazione sì Un di 6 più 2 Sì ma c'abbia il tiger Cioè non è fissa? Aspetta Devo vedere un attimino Dal manuale Mi sembra di sì Comunque vabbè Finisce qui la battaglia Ma è distrutto Complimenti Grazie Grazie Sono molto Felice di questa vittoria Ciao